Chi ha seguito la diretta video NASA della Spacewalk dello scorso 1 novembre con le due astronaute Jasmine Mogbelli e Laurel O'Hara impegnate all'esterno della stazione spaziale nell'operazione di sostituzione di uno dei 12 gruppi di cuscinetti che consentono ai pannelli solari di modificare il loro orientamento per seguire il Sole, chi ha seguito con attenzione la live della Spacewalk, dicevamo, avrà notato a un certo punto uno strano movimento, un oggetto che scivola fuori dall'inquadratura e in effetti è quello che è accaduto, una sacca degli attrezzi andata inadvertitamente persa, conferma la NASA sul suo blog, precisando che gli strumenti che conteneva non erano necessari per le fasi restanti di quella che viene impropriamente chiamata in italiano passeggiata spaziale, ma che come anche questi inevitabili contrattempi confermano è tutto fuorché una passeggiata. Non è infatti la prima volta che accade, già durante la prima attività extraveicolare americana, parliamo del 1965, durante la quarta missione Gemini, Ed White perse un guanto termico di scorta, l'anno successivo Michael Collins lasciò nello spazio una fotocamera Hasselblad, un'altra fotocamera questa volta digitale andò perduta durante l'attività extraveicolare disunita Williams nel 2006 e anche per le sacche degli attrezzi c'è un precedente, quella perduta da Heidemarie Stephanishin Piper nel 2008, la vedete in questa sequenza dell'Associated Press. Insomma, imprevisti da mettere in conto quando si opera in condizioni così estreme e con un abbigliamento così scomodo a partire dai guanti e per fortuna anche questa volta senza conseguenze, il centro di controllo della missione ha analizzato la traiettoria della sacca e ha stabilito che il rischio di rientrare in contatto con la ISS è basso e che sia la stazione spaziale che l'equipaggio sono al sicuro, quindi non è necessaria alcuna manovra d'evitamento. Grazie a tutti.